E' la più drastica riduzione di personale nella storia dell'azienda. 18.000 dipendenti di Amazon rischiano il licenziamento, lo ha confermato l'amministratore delegato Andy Jesse. Amazon ha resistito a congiunture economiche incerte e difficili in passato. Aiuteremmo coloro che sono colpiti dai tagli fornendo pacchetti che includono in indennità un'assicurazione sanitaria e un accompagnamento per un nuovo inserimento lavorativo, si legge in un email di Andy Jesse inviata allo staff. La società ha riconosciuto di aver assunto troppe persone prima della pandemia, circa 49.000 a gennaio 2020.